Uniti per vincere, le società di pallavolo pratesi, CGFS, Viva Volley, 29 Martiri, Volley Viaccia, Vintage Volley People e Volley Vaiano sono confluite nel progetto Prato Volley Project, pronte a rilanciare il movimento pallavolistico in città. Tavoli di confronto e nuovi accordi e nuove sinergie porteranno a questa evoluzione, a questo rinnovamento. Si attuerà in tre azioni fondamentali, la principale è quella della fusione e dell'integrazione del Viva Volley all'interno del Prato Volley Project che assorbirà tutte le atlete e quindi aumenteremo anche il numero delle atlete all'interno della società e il progetto rimarrà però con la finalità di lavorare insieme su piattaforme condivise e unitarie per far fare una pallavolo a tutti. Per cui tutte le società in base alle loro competenze e ai loro obiettivi lavoreranno insieme per permettere a circa 1300 atleti di poter giocare a pallavolo. Una società costruita per vincere sotto il brand pallavolo Prato con l'intento di essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B2 e con occhio di riguardo per il settore giovanile. L'obiettivo principale è quello di far crescere le ragazze di Prato per riuscire a portarle domani o all'altro fra un mese e fra un anno in prima squadra. Ovviamente l'obiettivo primario della prima squadra, parlando della B2, almeno per quest'anno non ci nascondiamo dietro un dito, è la salvezza. Poi da cosa nasce cosa, si tratta di vedere anche che allestimenti faranno le altre società, che squadre presenteranno, però l'obiettivo nostro è la salvezza anche perché verranno integrate tante ragazze di Prato, qualcuna anche esterna, però tante ragazze di Prato. Quindi non possiamo fare voli pindarici e sperare di crearsi situazioni che poi sarebbero anche veramente molto difficili da gestire in questo momento. Volley femminile a Prato riparte di slancio, tutti insieme per vincere con il brand pallavolo Prato.